lettura del vangelo secondo luca in quel tempo giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose chiamati quindi due di loro giovanni li mandò a dire al signore sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro venuti da lui quegli uomini dissero giovanni il battista ci ha mandati da te per domandarti sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro in quello stesso momento gesù guarì molti da malattie da infermità da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi poi diede loro questa risposta andate e riferite a giovanni ciò che avete visto e udito i ciechi riacquistano la vista gli zoppi camminano i lebrosi sono purificati i sordi odono i morti risuscitano ai poveri e annunciata la buona notizia e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo quando gli inviati di giovanni furono partiti gesù si mise a parlare di giovanni alle folle che cosa siete andati a vedere nel deserto una canna sbattuta dal vento allora che cosa siete andati a vedere un uomo vestito con abiti di lusso ecco quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re ebbene che cosa siete andati a vedere un profeta sì io vi dico anzi più che un profeta egli è colui del quale sta scritto ecco dinanzi a te mando il mio messaggero davanti a te egli preparerà la tua via io vi dico fra i nati da donna non vi alcuno più grande di giovanni ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui pace bene amici e ben ritrovati a questo nostro appuntamento con la liturgia festiva terza domenica di avvento secondo il rito ambrosiano ci viene ripresentata come domenica scorsa la figura del battista il precursore lui che ha vissuto questa attesa questo avvento come noi stiamo vivendo il nostro avvento in preparazione al natale troviamo battista in carcere un po dubbioso se non proprio in crisi magari anche in crisi però questo grande profeta il più grande tra i nati da donna dice Gesù intessendo la lode di giovanni questo grande profeta precursore di cristo anche in un momento di flessione di scoraggiamento magari di delusione fa continuamente riferimento a cristo non può recarsi personalmente a chiedere spiegazioni al maestro ma manda i suoi discepoli chiedendo a Gesù sei tu colui che deve venire dobbiamo attenderne un altro da notare che questa domanda ha come retroterra la vocazione stessa del battista la quale consisteva appunto nel preparare la strada al messia che doveva venire e il battista che aveva poi abbattezzato Gesù si trova in un momento in cui si confonde le idee si confondono tutto si fa buio anche noi magari sperimentiamo questi momenti di flessione di buio di non chiarezza e quindi di tristezza di scoraggiamento in ogni caso il battista ci insegna che anche in questi momenti bui in cui sembra che la fede venga un po meno non risponde più a le nostre domande e non è più in grado di aiutarci a risolvere i problemi dell'oggi anche in questi momenti il battista ha fatto riferimento a cristo e lui ci insegna appunto a fare continuamente riferimento al signore al signore della vita che è sempre con noi Gesù risponde a questi due interrogativi a questo interrogativo in due modi primo operando non con le parole non risponde con una risposta teorica ma dice guardatevi attorno che cosa succede i ciechi recuperano la vista gli zoppi camminano è data la vita ai morti e a tutti quanti ai poveri è annunziata la buona novella questo sta succedendo e cita una espressione dei versetti del profeta isaia ma senz'altro il battista avrà letto e riletto questo profeta avrà conosciuto questa profezia riguardo a gesù cristo ma forse come succede a noi interpretiamo male le parole della bibbia perché le riferiamo a noi nella nostra situazione la nostra problematica e questo va anche bene perché si tratta anche di attualizzare la parola di farla calare dentro la nostra esistenza dentro il nostro quotidiano ma così facendo rischiamo di lasciare in ombra alcuni aspetti alcune interpretazioni alcuni suggerimenti contenuti dentro la stessa parola che magari ci sfuggono o per comodità o per egoismo o perché siamo limitati nelle nostre capacità di comprensione della stessa parola per variegati motivi la parola è più grande della nostra interpretazione molte volte rischiamo di non interpretarla bene è il caso del battista che ha letto secondo le consuetudine la mentalità del suo tempo ha letto la profezia riguardo a cristo solo sotto un certo aspetto messia avrebbe dovuto salvare liberare il suo popolo e era colui che avrebbe dovuto fare verità sarebbe venuto come giudice per separare il bene dal male e invece Gesù mangia con i pubblicani e le prostitute allora il signore gli dice o dice ai discepoli del battista guardate le mie opere questa è la realizzazione della 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 profezia di isaia e guardate bene state bene attenti leggete attentamente meditate su queste parole profetiche di isaia perché io comincio a salvare non partendo dai rode da pilato dall'imperatore romolo di roma oppure dai grandi di questo tempo ma comincio a salvare a partire dai più poveri dei più bisognosi da coloro che veramente si trova in una situazione tale di morte per cui è necessaria è urgente una salvezza la mia salvezza è rivolta a tutti a a partire però dai quali più bisognosi i più poveri ecco questa questo episodio ci insegna a fare ricorso a Gesù Cristo ci insegna che anche nella nostra attesa nel nostro cammino di avvento non dobbiamo avere la pretesa che tutto si attui secondo le nostre attese e prospettive ma dobbiamo imparare dalla figura del battista da questo episodio che questa salvezza che verrà ancora in questo natale si rivestirà come sempre come due mila anni fa di carne sotto le sembianze di un piccolo povero bambino avvolto in fasce questa salvezza si presenterà in modo inaspettato e rischia di disattendere le nostre aspettative ma sempre di salvezza ci si tratta e si parla e allora dobbiamo convertirsi dobbiamo convertire convertire la nostra intelligenza la nostra mente la nostra fede a cogliere la salvezza di Gesù Cristo adesso come si riveste di carne adesso pace bene amici a risentirci alla prossima domenica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti